Buongiorno ragazzi, sotto vi metto il link di questo video che ho messo che è le dichiarazioni del nostro amico Gates, il nostro amico Portone e sono molto importanti per capire che anche lui dice delle cose molto importanti. L'ho messo sul mio secondo canale che poi è anche il primo perché ha più iscritti 17.000 ma non lo uso più perché è stato molto censurato e per sicurezza ve l'ho messo sul canale Abbondanza News che vi invito a iscrivervi se non siete iscritti e l'ho messo lì perché temo che verrà censurato. Sotto vi metto il link dove potete vedere direttamente questo video e cosa dice lo stesso Bill. Molto molto importante, fate girare, un abbraccio.